Ciao da Nino JFC, day after di questo Milan Juve che si è giocato ieri sera, 0-0, non ha vinto la Juve, non ha vinto il Milan, ha vinto sicuramente la Noia, come fu a Sanremo del resto, no? Che vinse proprio la Noia, la canzone di Angelina Mango, anche ieri sera a trionfare. È stata la Noia, ne parliamo in questo post, in questo giorno dopo, in realtà il post partito è uscito già ieri sera, se non l'avete visto potete recuperarlo. Vi dico insomma qualche altra cosa, aggiungiamo qualche altra cosa al discorso, anche perché poi c'è da voltare pagina perché non c'è tempo, ci dobbiamo tuffare nell'atmosfera Champions League. Questo è anche il bello di avere partite ogni tre giorni, che anche se una partita ti lascia un po' l'amaro in bocca, qualche dubbio eccetera, c'è subito un'altra sfida per, come direbbe Alessandro Borghese, confermare o ribaltare le critiche magari, le delusioni che possiamo avere oggi. Allora parliamone, ovviamente parliamone significa che ne parlo io, ma ne dovete parlare anche voi attraverso i commenti qui sotto, quindi commentate con la vostra, ma vi chiedo anche un pollicione, non vi costa nulla ed è importante. Se vi piacciono i contenuti di questo canale, se vi piace questo canale, potete ogni volta che guardate un video supportarlo con un pollicione. Se volete, abbonatevi qui sotto sempre, sempre tutto qui sotto, se trovate tutto, tasti, link, qualsiasi, tutto qui sotto. C'è anche il link del mio secondo canale, ve lo ricordo ogni tanto, che ha cambiato nome, non si chiama più Resta Quel Che Resta, ma si chiama Chiacchiere di Cinema, perché ormai l'identità del canale era abbondantemente quella lì e allora ho deciso anche di dargli il giusto nome. Se volete, se volete, potete seguirmi anche lì, se siete appassionati anche di cinema, in particolar modo quello italiano, cinema di qualsiasi genere, cioè i film belli, divertenti, ma anche i film un pochino noiosi, ma sicuramente meno noiosi di quel che è stato questo Milan Juve. Allora, io ve lo dico subito, non faccio passi indietro rispetto a quello che ho detto ieri sera nel post partita. Nel senso che ieri sera sono stato severo con questa Juve, forse, non lo so, ma tra i più severi, poi non è che ho ascoltato o letto tutti i commenti di tutti i juventini sui social, però in generale ho la percezione di tanta gente che si è accontenta, si è accontentata di questo punto addirittura definendolo qualcuno un punto d'oro, un punto che è il massimo possibile, qualcuno ha detto non si poteva ottenere di più, fare di più con questa emergenza. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. Guardando la partita, come è stata la partita, come è stato anche il livello del nostro avversario, non sono d'accordo. Cioè l'amaro dei due punti non presi mi viene e comunque non sarei stato d'accordo, vi dico la verità, nemmeno alla vigilia, perché assolutamente piena emergenza bianconera, sempre San Siro, è sempre un Milan Juve, però il Milan di questa stagione attualmente per il momento non si può definire uno squadrone atomico imbattibile che se ci vai a giocare addirittura a casa loro con l'emergenza sei spacciato, sei sicuro di dover affondare. Non era già la vigilia questa secondo me la situazione, però poi ripeto, guardando il campo, guardando che questo Milan in casa sua non riesce con i suoi giocatori anche di spicco a pungere, a impenserire questa Juventus diciamo disastrata, anzi è una Juventus che è lei a dominare quantomeno sul piano territoriale, ripeto, la mare in bocca mi viene. Però la partita è andata così, sicuramente le assenze sono state pesanti, anche nel lungo periodo della partita perché poi non ti danno la possibilità di dare un volto nuovo alla gara. Tiago Motta ha provato a farlo con la carta WEA, tra l'altro grazie a chi mi ha diciamo corretto su una cosa perché io ieri ho parlato di WEA, del fatto che abbia giocato poco, solo 10 minuti gli sono stati dati e mi è stato fatto notare che WEA aveva forse preso anche una botta in allenamento, se ne era parlato nella mattinata di ieri e forse anche questo ha spinto Tiago Motta a gestire in questo modo WEA. Vi dico la verità, questa roba mi era completamente sfuggita, anche perché ieri poi mattinata mi ha tribolato da tante cose e quindi questa nota diciamo così, questo dettaglio su WEA mi era sfuggito. Però vi dico la verità, assolutamente grazie dell'appunto, però io alla fine avevo chiesto 10 minuti in più di Timothy WEA non è che chissà cosa avevo io, ho detto va bene anche vederlo a partita in corso, però magari invece dell'ottantesimo poteva entrare pure al settantesimo, no? Che comunque sono 10 minuti in più, magari un guizzetto in più anche se non era al top ci poteva stare. In ogni caso, insomma, è stata una Juventus che, ripeto, ha gestito, ha tenuto molto bene difensivamente e questa per me è sempre una buona notizia, perché ecco ragazzi lo vedete, cioè alla fine stiamo qui anche a dire vabbè ci siamo presi il punto a San Siro e lo dobbiamo anche a questo fatto di essere stati bravi dietro, no? C'è molta gente che snobba questa cosa, non dà molto peso, no? Sembra sempre che la fase difensiva sia l'ultima delle cose da curare, non è così perché una partita come quella che hai fatto ieri da un punto di vista offensivo con magari un colabrodo dietro, eh la perdi, te ne torni a casa con 0 punti, con una sconfitta e anche poi con quello che significa perdere le partite, no? Psicologicamente non è mai facile. Puoi avere anche situazioni successive, no? Dovute a questo. Invece alla fine non l'hai nemmeno persa. Quindi bene la solidità difensiva, bene Turam, ne stanno parlando in tanti e sono d'accordo con loro. Ieri Turam ha fatto una bella partita ed è un giocatore che sta crescendo molto, è un giocatore che atleticamente sta dando molto a questa squadra, poi dal punto di vista tecnico non è un giocatore come dire, sprovvisto totalmente di tecnica ma questo tipo di supporto a questa squadra lo voglio da altri come anche del giocatore di cui parleremo tra poco, però è un giocatore sicuramente che sta crescendo tanto e che mi auguro a questo punto possa anche insieme a Locatelli, perché i due praticamente fanno sempre coppia fissa quando giocano loro sul campo, essere la base di questo centrocampo bianco-nero ma non per una questione di particolare gradimento per questo assetto qui ma per la questione della continuità. Una questione di cui ho parlato anche nelle scorse settimane nel senso che questo non significa che i McKennie, i fagioli non devono vedere il campo non sto dicendo questo, però questa Juventus ha bisogno di un'identità definita anche a centrocampo come la sta avendo in difesa, lì anche dovuto al fatto della piena emergenza è importante che ci sia anche da un punto di vista di centrocampo perché ecco anche un giocatore come Turam che sta crescendo è importante che giochi il più possibile in modo che poi lui si registra proprio in questo ambiente poi c'è il turnover, c'è la gestione anche delle energie e questo è un altro discorso però mi auguro di non vedere quelle situazioni come si sono viste a inizio anno di ok, Locatelli-Turam, Locatelli-Turam, sempre e per sempre, comunque, eccetera poi all'improvviso per due o tre partite, anche partite importanti, ecco, di Champions, eccetera non giocano più. Cioè questa roba qui in generale proprio non mi piace comunque bene Turam, l'ho detto anche ieri bene Savona che comunque si trovava oggi un altro avversario scomodo come quando gli capitò Quara nelle prime giornate è un giocatore che considerando il percorso suo, l'età, il venire da una next gen è sicuramente un percorso che va lodato e deve continuare così anche perché comunque non è semplice anche per lui proprio perché è un giocatore sicuramente con tanta ambizione anche con la testa giusta perché senza la testa giusta non ci stai in questa Juve e non ci stai con queste buone prestazioni però è un giocatore che poi può assolutamente anche sbagliare può anche fare partite sotto tono ricordiamo che è un giocatore che si ritrova oggi titolarissimo di questa Juve anche a causa di quello che è successo perché con l'organico difensivo al completo magari lì avremmo visto di più Calulu oppure anche adesso senza il discorso dell'infortunio di Cabal magari potevamo vedere anche cambiato a destra invece adesso Savona teoricamente sarà proprietario di quella fascia poi stiamo a vedere perché con Mott può succedere di tutto comunque bene Savona male ieri Copminers male ieri Copminers io dico la verità mi aspettavo veramente molto di più mi aspettavo tanto ho fatto anche una giocata sul suo gol perché ho detto no prima o poi comunque deve sbloccarsi magari adesso avrà anche qualche compito offensivo in più magari se capita in calcio di rigore può essere che lo tira lui visto che non c'è nemmeno Vlaovic comunque non è riuscita ad andare a segno ma non è questo il punto dal momento che credo non abbia nemmeno mai tirato in porta cioè non è questo ma poi non è una questione solamente del gol è una questione di prestazione è stata una prestazione scialba è stata una partita con palloni persi è stata una partita dove il suo incidere certe volte anche in maniera meno visibile di altri perché ci sono state partite dove è sembrato più anonimo Copminers ma non lo è stato affatto bastava guardare un po' la sua partita quindi il grande lavoro che faceva di gestione palla veramente muovendosi tanto ieri questo non c'è stato e quindi è stato flop qualcuno a parte vabbè tifosi di altre squadre ma qualcuno anche di casa Juve inteso come tifoseria ovviamente lo sta chiamando flop miners cioè per dire che è un giocatore che sta flopando e che quindi la Juventus ha sbagliato nell'acquisto io non sono di questo parere anche se perché questo giocatore mi piace e secondo me primo o poi insomma sarà a livello giusto per questa squadra però è vero anche che siamo a fine praticamente novembre e ci ritroviamo ancora con un giocatore che non riesce a prendersi la Juve sicuramente meglio di altri in questo caso mi riferisco a per esempio a Douglas Ruiz che è veramente un giocatore oggetto misterioso oggetto non identificato di questa squadra adesso ovviamente è out per infortunio con miners non è di questo stampo qui però come dire magari qualcosina in più potevamo averlo è ovvio che io però su di lui su cop dico andiamoci piano poi le critiche le facciamo perché le critiche si devono fare cosa che diciamo sempre perché se la partita non va bene non viene fatta bene di un giocatore è giusto dirlo senza esagerare anche la cosa lì flop miners no nel senso che può essere giusta può essere ironica per questa partita qui ma se la vuoi utilizzare per tutto il percorso non sono d'accordo però bisogna criticare no perché sta roba purtroppo la gente non entra in testa capito magari hai fatto delle belle prestazioni prima allora oggi la fai brutta non si può critica no si critica in maniera possibilmente sensata dicendo le cose giuste e tutto a posto fra tre giorni cop miners sarà il migliore in campo in champions league e noi saremo felicissimi di sottolineare in questo caso le grandi prove perché così funziona non mi ricordo che cosa stavo stavo dicendo ah no stavo dicendo il discorso della crescita di questo giocatore noi dobbiamo ricordarci non è una questione di alibi di giustificazioni no perché non ho bisogno di fare questo e né cop miners ha bisogno di questo però ricordiamoci sempre il suo percorso l'estate che ha fatto da un punto di vista anche di diciamo mancata preparazione è arrivata la juventus praticamente agli sgoccioli alla fine del mercato a campionato già iniziato e a preparazione ovviamente juventus già fatta senza di lui quindi come dire è arrivato quando già tutto era fatto era già iniziata la stagione ufficialmente e ha fatto la vera preparazione dell'integrazione in bianco nero e poi si è messo pure quel quel bastardo di stop dell'infortunio del problema che ha avuto alle costole che lo ha tenuto fermo questo significa che è un giocatore che comunque ancora non ha non ha concluso il non so il rodaggio diciamo così bianco nero perché dico questo perché è vero che siamo praticamente a inizio dicembre e potevamo aspettarci di più da cop miners ma allo stesso tempo dico che la stagione è molto lunga e non sarei stupito di ritrovarci qui tra due tre mesi con magari un cop miners sugli scudi un cop miners delizioso insomma straordinario per la juventus questo non significa che per due tre mesi deve far cagare sia chiaro però intendo dire magari in un rush finale di stagione potrebbe essere un giocatore definitivamente sbocciato in bianco nero questa è una sensazione ed è ovviamente una speranza che per me vale per lui e per tutti gli altri perché anche su douglas luiz posso dire la stessa cosa ci sono state tempistiche diverse per lui però ripeto la croce non la voglio buttare su su nessuno e niente ieri tra l'altro ieri si è vista l'assenza dell'attaccante qualcuno ha detto avete visto criticate sempre Vlaovic però poi adesso si è visto la mancanza sua in una partita del genere io dico una cosa si è vista la mancanza di un attaccante cioè poi di Vlaovic ovviamente perché è l'unico che abbiamo poi assolutamente Dusan non poteva qualora ci fosse stato essere assoluto protagonista perché non è un giocatore che floppa tutte le gare però voglio dire cioè se c'è una cosa che questa gara ci ha detto è che esperimenti di falso 9 di facciamo giocare coppe meccaniche con uno che si sgancia l'altro si muove poi si alternano sta roba qui non va cioè a noi serve un attaccante se in rosa c'è solo Vlaovic c'è Vlaovic ma in generale c'è bisogno di un attaccante quindi per questo motivo qui speriamo assolutamente che per mercoledì possa essere a disposizione Dusan insomma per la sfida di Champions League e che poi si possa a gennaio a parte recuperare Milik perché se è veramente sulla via della ripresa e per gennaio magari è pronto magari a questo punto aspettiamo e poi se si arriva pure qualche altra cosa non sarei dispiaciuto però insomma questi discorsi che facciamo sempre se questi discorsi che faccio anche quando c'è Dusan Vlaovic in campo quindi figuriamoci detto questo ragazzi mi dà fastidio non aver preso la posta piena in gioco ma il discorso che faccio è sempre lo stesso io se devo maledire dei punti persi io posso anche non pensare ai big match non ne abbiamo vinto nemmeno uno le abbiamo pareggiati tutti posso anche dire che va bene così mi tengo le non vittorie contro Napoli Roma Milan Inter ok va bene però vado a maledire i famosi punti contro Empoli e Cagliari no quante volte abbiamo citato questa cosa e il discorso è sempre lo stesso quello mio c'è gente si sta concentrando sul fatto ma i big match non li vinciamo io mi tengo le non vittorie nei big match però vorrei pensare di avere invece quei quattro punti contro Empoli e Cagliari e oggi avevamo una Juventus prima sì di fatto prima in classifica sì sopra l'Atalanta sopra l'Inter e eventualmente a pari punti con il Napoli qualora il Napoli dovesse battere la Roma se mi ricordo bene adesso a memoria la classifica e quindi è quello capito quello però diciamo che il fatto che poi questo sia un campionato come dicevamo spesso ancora senza un padrone anche se voglio dire no le squadre vedi l'Inter questa sua ripresa vedi l'Atalanta vediamo il Napoli che farà adesso con la Roma queste squadre sono quelle candidate a essere nel lungo periodo lì in alto cioè a rimanerci fino alla fine della stagione poi ovviamente la spunterà una soltanto l'augurio qual è l'auspicio qual è la speranza qual è quella di esserci anche noi di esserci anche noi insieme a queste qui sia perché sei la Juve e quindi anche se con gli infortuni anche se con insomma tanto ancora da fare magari ci puoi provare lo stesso a stare lì in lotta e poi perché stare in lotta per la posizione il piano più alto significa anche eventualmente magari non raggiungere quel primo piano ma nemmeno scendere nel garage della classifica oppure a metà a metà palazzo cioè nel senso stringendo bisogna andare in Champions League quindi non cioè vabbè va bene sto punto vabbè va bene così vabbè però è solo il primo anno sì ok va bene tutto ma noi dobbiamo andare in Champions League questo è sicuro poi siamo la Juve e dobbiamo essere competitivi è la storia che ce lo impone questo è questo significa Juventus comunque a parte questa roba qui basta la pagina si volta pensiamo alla Champions League però io la mia l'ho votata voi non ancora avete ancora il tempo qui sotto di scrivere la vostra scrivetela ci vediamo nei prossimi video e come sempre fino alla fine e come sempre